Qualcuno pensa che sia stato un errore doveva essere la terra dei fuochi, in realtà è la terra dei vuoti. Si intitola La terra dei vuoti, il nuovo romanzo del professore Emanuele Coppola. I personaggi che avrebbero dovuto rappresentare il meglio del futuro di Giuliano, in realtà sono state, sono chi sa, vuoti dentro nella terra dei fuochi. Una storia intrigante di corruzione, ambiente e politica ambientata a Giuliano. Voglio parlare a 25 anni fa, più o meno i romanzi ambientati in quel periodo, cronologicamente, quando si parlava tanto della terra dei fuochi, delle discariche, quando tanti concittadini e soprattutto anche le altre rappresentanze locali dichiaravano che avrebbero risolto il problema. Il problema, noi sappiamo in questi giorni che non si è risolto, però sono rimasti in ogni caso, o almeno è rimasta la memoria della terra dei vuoti. Questo romanzo è ambientato a Giuliano, anche se ci sono escursioni in tante bellissime ville, perché molti giulianesi hanno avuto in passato, non so ancora se adesso, il pezzo di andarsene lontane da Giuliano, lontane dai miasmi, lontane da una realtà degradata, quindi avevano le loro ville.